No, solo per dire che su questi ordini del giorno, insomma, questo lavoro vogliamo stendere un velo pietoso, insomma, perché il lavoro bisogna farlo nelle commissioni. Non basta andare a mettere quattro regolette in croce in un'assemblea per poter dire ci siamo impegnati per ottenere qualcosa poi che è previsto da altri regolamenti come uno sulla sommistrazione alimenti e bevande e lo portiamo in discussione oggi quando stiamo parlando di un altro regolamento oppure quello della polizia urbana sugli alcolici che lo portiamo oggi qui. Allora, se vogliamo presentare gli ordini del giorno della qualunque condivisibili quanto volete per il bene dell'umanità o perché, non lo so, vogliamo bene i nostri figli, allora lasciamo perdere ragazzi. Cercate di fare un lavoro serio, per favore.